Dare fondo a tutte le energie fisiche e mentali e tornare da Fossombrone con il bottino pieno. I lupi si sono rituffati subito in clima campionato dopo il pari col Vasso Girardi e vogliono mettere le mani su un successo che manca dall'affermazione interna dell'11 marzo sull'Avezzano. Vincere significherebbe probabilmente rosicchiare ancora qualcosina ad almeno una rivale su due. La Samb sarà impegnata in casa col Chieti. L'Aquila andrà ad Avezzano per un giovedì santo calcistico tutto da vivere. Il presidente Matt Rizzetta carica il rosso-blu da New York. Per centrare l'obiettivo servono unità, tranquillità e cattiveria agonistica, sottolinea. Ci attendono sei finali, remiamo tutti nella stessa direzione con spirito di sacrificio e di solidarietà. Rosario Pergolizzi dal canto suo non nasconde un pizzico di delusione per lo 0-0 di domenica scorsa, ma resta concentrato e carico. Per quanto riguarda l'impressione, sicuramente queste ultime due partite, soprattutto il secondo tempo di Fano e il secondo tempo di oggi, non sono state delle ottime prestazioni. Quindi quello di poter provare e andare dove dobbiamo andare, il nostro obiettivo è quello. Non è che ci dobbiamo provare, ci teniamo a quell'obiettivo. Non male che dobbiamo migliorare in qualcosa. Adesso più ti avvicini alla fine del campionato, più subentra il pensiero, devi vincere, devi fare. Diciamo che in queste due prestazioni meno belle, anche se siamo rammaricati dal fatto che potevamo avere 3-4 punti in più, però nello stesso tempo e con le due prestazioni negative non abbiamo perso. Il tecnico analizza così dal punto di vista tecnico-tattico il pareggio contro i altomolisani di Marmorini. Io direi che la partita di Fano abbiamo avuto la bravura, l'abbiamo preparata bene, siamo andati in vantaggio e potevamo anche raddoppiare. Nel secondo tempo ci siamo abbassati e non abbiamo più giocato. Oggi purtroppo non ci è capitato questo nel primo tempo, ci è capitato alla fine. Dobbiamo cercare soprattutto di essere un po' più incisivi, meno frenetici, perché se dovessi trovare un appello alla squadra, penso che in questo momento è un po' frenetica la cosa, in senso loro sono un po' frenetici, un po' questa cosa di vincere, 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 però purtroppo le partite le devi vincere sul campo. Non le vinci, le puoi preparare, però ogni partita ha le sue difficoltà, oggi ha avuto le sue difficoltà, a Fossombrone avrà un'altra difficoltà, però il mio lavoro e la mia medicina che conosco è quella di lavorare, cercare in silenzio, senza mettere paure e ansie, di tornare a essere quelli che siamo sempre stati. Però lo siamo anche adesso, forse probabilmente adesso abbiamo un pizzico di timore in più, perché le partite diminuiscono e quindi l'obiettivo per noi diventa più vicino.